Ok, meglio se registro così Allora, questo è il programma che vi parlavo Total Media Stream Allora, per registrare cosa fate? Andate su qua Registra video E schiacciate qua Adesso, vedete la televisione? Fa un po' di boom, bim, bam, boom, bam Perché si deve consincronizzare E poi vi apparirà anche su qua Sullo schermo la cosa dell'Xbox Tra un po' perché ovviamente Eccoci qua Allora, vedete? Tutte e due qua Allora Xbox Vedete che qua c'è anche già scritto Scusate ma non mette molto Vabbè, vedete che qua PlayStation, AVC AVC HD E Xbox 360 Allora, Xbox 360 Qui cosa c'è sito? MP4 Se non lo vedete, comunque poi vedrete Questo qua Per registrare in AVC Quella roba lì Che è un formato TS E il formato PlayStation 3 Che è M2 TS Allora Per registrare Dalla Xbox 360 Cioè, lo capite Cosa dovete registrare? No Ehm Le impostazioni Sorgente Vabbè, vi darà HD L'outpage L'ingresso video C'è YPRPB S video E video composito Allora Quello che serve a noi è il primo YPRPB Il primo Vabbè, non si vede benissimo Comunque Mentre Il video composito Invece è quello che useremo Per la Playstation 2 Cosa che però Quando saprò bene come dirvelo Vi farò un altro video Dispositivo audio C'è S PDIF RCA E' quello che serve a noi L'RCA Front E' quello per la Playstation 2 Ok Poi Stereo a due canali Va bene O canali 5.1 Ma io non ve li consiglio Poi Naturalmente Vettete voi Risoluzione ingresso 720x480 E Velocità in bit Codifica corrente Quanto omega Allora Voi potete scegliere Quello che volete Io vi dico solo Allora Impostazioni dispositivo Le vedete Ci sono luminosità Contrasto Tonalità E tutto quello che è Più decoder video Che vi da Standard video PAL B Lasciate PAL B Vedete Ok Bene Mentre Per le impostazioni Formato Ci metto un po' Ok Le vedete Good Better Best Allora Non c'è bisogno Che mettete Best Perché Se mettete Best Che sono 13.5 Megabyte al secondo O al minuto Non me lo ricordo bene Vi viene Un pastrocchio Allora O l'Xbox O la Playstation 3 O quel che l'è Non li leggi Quindi vi vengono Video Tutti Spezzati Tutto Che non funziona bene Comunque Che si vedono A tratti Se lo mettete Invece Troppo in basso Vi viene Una roba Che fa Veramente Schifo Quindi Io vi lascio Vi direi Che Per quando Vi registrate Dai Xbox Playstation 3 E Wii Vi dico Di lasciare Dai 4 A 5 Mega Non esagerate Mai Va bene Così Perché Comunque Vi registra In HD Ed è una Una bella Cosa Questi qui Io non li ho mai Toccati Ma non penso Che servino A niente Lume Croma E Use AAC Audio E Corder Lasciate Questo qua Va bene Ok Niente Questo è Quello che Questo è il programma Per registrare Qua c'è scritto Cattura Schiacciate E poi Quando avete finito Fate ferma Qui c'è Salva La cartella Dove dovete salvare Questa qua E basta Non c'è altro Da dire Sempre se avete domande Basta che me lo dite Sì qua C'ho un po' di pastocche Perché mi sta Mi sta facendo L'aggiornamento All'Xbox Scusate E basta La A Ecco una cosa importante Qui c'è scritto Abilità Anteprime Registrazione E accelerazione Hardware Non toccate niente Perché Se le abilitate Mentre registrate Vi viene la schermata Del gioco E vi rallenta Tutto il computer Io vi consiglio Di non abilitare Perché quando registrerà Qua diventerà Tutto nero Ve lo dico subito Non vi preoccupate Perché è normale Quando volete fermare La ricercatura C'è scritto Ferma E fermate La registrazione Niente Per ora è tutto Purtroppo Non sono riuscito A trovare Quel Cazzo di cosettino Vi darò comunque Il link Di Dove prenderli E vabbè Comunque Quando farò Un video Per la registrazione Playstation 2 Vi dirò Più esattamente Che cosa fare Quando scoprerò Bene Come si fa O comunque Farò un bel Discorso Con Bosco Lani Bene Questo video Finisce qui Se avete domande Scrivetemi Dove volete C'ho anche La fanpage Di Bosco Che Governo io Diciamo E quella Di Revy91 Con Un mio amico E io Se mi interessa Vi lascio I link sotto Per tenervi Aggiornato Sui miei video E su Tante altre cose Niente Con questo è tutto Ciao a tutti Da Revy91 Ciao a tutti